Buon Natale, martedì 25 dicembre, cosa vi ha portato Babbo Natale? A noi ha portato un WOD, 4 round fatti da 15 burpees, 20 sit-up, 25 airspot e 30 calories square. Pese e scalature, anche se non ce ne sono in realtà, come al solito sulla grafica qui di fianco. Buon Natale a tutti e ci vediamo domani per un'altra puntata di Ciper TV.